buongiorno a tutti ragazzi e ragazze come state spero tutto bene allora svuota la spesa conad vediamo sempre in velocità allora delle tre marie abbiamo preso questi cornetti da freezer insomma al cioccolato sono sei cornetti surgelati come abbiamo preso questi altri sempre cioccolato ha preso tre marie antica marca rodrigo moro non mi dire che le ha presi tutto il cioccolato sì quindi 12 posh al cioccolato e vabbè comunque ecco questi cornetti qui si sono un po un po scioccata perché credevo ci fosse alcuni vuoti o quelli alla marmellata insomma vabbè pace comunque questi qui che hanno farcitura nocciola e cacao sì poi friarielli allora poi questi friarielli cubello foglio più sono 600 grammi di prodotto della orgel questi qui della orgel sempre friarielli abbiamo preso due fatti comunque anche il mio compagno credeva di aver preso quelli alla marmellata invece sono due al cioccolato vabbè poi sempre da da freezer questo prezzemolo qui tritato della conad sono 75 grammi poi abbiamo preso queste piadine qui della conad sfogliata con olio extravergine di oliva abbiamo preso il panda tosta insomma il pan carré della mulino bianco questo il pacco grande da 24 fette poi delle sottilette queste qui sono le classiche uova queste qua sei uova fresche grandi da gallina allevata a terra sempre marchio conad poi un pacco di kinder fette al latte un pacco di lo hacker e poi abbiamo preso i sofficini che erano in offerta quindi questi qui ai funghi sono quattro pezzi dentro una confezione ai funghi e due confezioni di questi verdi agli spinaci poi due scatolette queste qui due confezioni di panna da montare del plato questo è già zuccherato appunto sono da 200 ml luna delle fette biscottate conad queste qua sono quelle dorate con cui faccio circolazione al mattino sono già tra appunto monoporzioni da quattro fette spinacine dell'aia sono appunto pollo e tocchino e spinaci sono tre poi una pizzetta e sotto una focaccia sempre marchio conad questa con le olive un vasettone di nutella questo qui è da 950 grandi uno di maionese senza conservanti questa qua marchio conad era in offerta abbiamo preso questo poi già che erano in offerta abbiamo preso questi arrossi della ball roll aia in classici da 750 grammi abbiamo presi due poi yogurt al caffè una panna spray questa della conad dolce decoro un sacco per magno dire una rete di patate da 3 kg questa qua l'abbiamo già preso la terza volta queste sono buone ci durano come minimo tre quattro volte quindi vanno più che bene due confezioni di ballelata fior di latte sono otto boccuccini di mozzarella mi piacciono tanto erano in offerta credo poi ho preso questo caffè appunto miscela per il caffè insomma per la moca caffè macinato non mi veniva della conad gusto e roma morbido e rotondo l'ho preso perché devo fare il tiramisù e quindi questo altrimenti non usiamo le capsule poi galbani sento luci e la nuvola che tipo il diup secondo me della fila delfia spalmabile fresco alla ricotta ok e alla ricotta questo invece la fila delfia light poi qui abbiamo un bel po di insalata quindi sempre tutto marchio conad cuore di lattuga abbiamo la rucola che io detesto già solo sentire l'odore comunque vabbè rucola lattugino che è la mia preferita poi altro cuore di iceberg per finire abbiamo le carotine queste carotine poi julienne e una confezione di fragole sono 300 grammi e niente ragazzi questa è stata la nostra spesa abbiamo speso un totale di 90 euro e 79 e niente noi ci vediamo alla prossima ciao